fare la spesa ti pesa vorresti farla in modo più veloce e conveniente scopri drugstore punto it collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua sconti oltre il 50 per cento sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia della persona della casa e degli animali e per te 5 euro di sconto con il codice offerta tv il programma è offerto da buonasera gentili telespettatori benvenuti a qui inter il contenitore settimanale dedicato a tutti i tifosi nero azzurri studio come una new entry un gradito ospite luca pessina giornalista di fc inter news punto it ciao luca ciao simone buonasera tutti i telespettatori partiamo ovviamente parlando di calcio giocato questo perché l'inter continua a sognare il terzo posto continua a sognare l'europa che conta però nell'ultima partita in campionato contro il torino è arrivata addirittura una sconfitta casalinga gol di amoretti all'ultimo secondo di gioco e terzo posto quindi sempre più lontano per la benamata si è stata una partita beffa per l'inter che ha cercato di fare gioco per tutti i 90 minuti e poi si è trovata insomma a subire il gol nel finale c'è da dire che è stato un inter abbastanza frivola nelle sue manovre offensive è stato un inter che ha provato a sfondare sugli esterni ha provato a creare qualcosa ma per tutti i 90 minuti non ci sono state quelle azioni quelle sensazioni positive che ti può dare una squadra che vuole offendere e vuole davvero portare a casa una partita in casa quindi la beffa in realtà è stata anche poi frutto della della sorte che magari aveva evitato l'inter a empoli in un pareggio che forse l'inter non ha meritato e invece ha tolto qualcosa a san siro dove i nerazzurri hanno dominato territorialmente ma poi non hanno fatto nulla per vincere la partita ecco perché secondo te l'inter ha queste difficoltà perché a fine gara Mancini ha detto sì è vero abbiamo comandato il gioco ma poi siamo mancati negli ultimi 30 metri lo ha ripetuto anche il capitano dell'inter Andrea Ranocchi e Mixon però a calcio voglio dire se manchi negli ultimi 30 metri non potrai mai vincere la partita sì assolutamente è un inter che intanto manca molte volte di Maurito Icardi nella creazione della manovra Mancini gli chiede spesso di avvicinarsi ai compagni di farsi incontro e provare a giocare la sfera in questo Maurito ancora qualche difficoltà in più io darei anche una spiegazione a livello fisico secondo me è un inter che soprattutto negli interpreti offensivi ha ancora qualche difficoltà a livello fisico citerei Palacio che non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia ma anche Podolski, Shaqiri e chi sta giocando là davanti non è in condizione ottimale bisognerà aspettare ancora un mesetto secondo me per vedere tutti questi 3-4 giocatori offensivi al top A proposito di Mauro Icardi domanda secca giugno va via? È uno dei possibili sacrificabili in casa Inter soprattutto non dovesse arrivare la Champions League perché Icardi in questo momento all'Inter è l'unico giocatore che può portare davvero una cifra interessante nelle casse del club di Corso Vittorio Emanuele l'Inter lo valuta addirittura sui 40 milioni Maurito sta segnando e quindi io credo che la valutazione ci stia tutta bisognerà anche capire se rinnoverà il contratto in questo momento i contatti sono continui via mail tra il procuratore Abian Morano e l'Inter insomma si sta provando a raggiungere un accordo che non è ancora vicino lui chiede tantissimo anche perché guadagna molto dei diritti di immagine insomma è un nodo che l'Inter dovrà cercare di sciogliere entro breve tempo a meno che a giugno non si voglia proprio andare verso una cessione Ecco prima hai parlato di Podolski e Shaqiri hanno fatto bene quando sono stati impegnati per l'appunto con la maglia di Nero Azzurri sono mancati invece nella partita contro il Torino Shaqiri è vero che ha giocato pochi minuti Podolski invece è stato fra i peggiori in campo Sì Podolski sta secondo me patendo un po' quello che è stato l'utilizzo di Mancini in queste prime giornate è arrivato all'Inter in una condizione non ottimale come ho detto prima ed è stato subito catapultato titolarissimo in ogni gara anche in Coppa Italia diciamo che Mancini ha dovuto fare di necessità virtù la davanti non avendo giocatori e adesso Podolski pian pianino sta ingranando su Shaqiri io credo che il giocatore abbia delle qualità che non possono essere messe in discussione resterà da capire quanto tempo impiegherà lo Svizzero a capire il calcio italiano e soprattutto a rimettersi in forma perché la pausa in Germania è finita adesso e quindi il giocatore non giocava davvero da molto tempo Ecco Shaqiri potenzialmente secondo te può essere davvero un top player ma non solo top player può diventare uno dei calciatori più forti al mondo perché è stato definito in questo modo da Ausilio ma anche da tutti coloro i quali sono vicini per l'appunto allo Svizzero Io credo che l'Inter ci creda molto perché ha investito una cifra importantissima in questo momento storico del club per arrivare a lui una cifra di intorno ai 15 milioni che insomma in questo momento l'Inter si può permettere soltanto se crede davvero in un giocatore Io credo che l'investimento di Shaqiri sia davvero convinto il giocatore ha dimostrato soprattutto a Basilea e anche a Monaco dove ha trovato poco spazio che i numeri del potenziale top player ci sono l'Italia secondo me sarà la sua grande chance per potersi affermare e l'Inter è il palcoscenico giusto per trovare spazio come leader in una squadra finalmente Anche Marcelo Brozovic che ieri è stato presentato in conferenza stampa è un acquisto decisamente voluto dall'Inter decisamente voluto da Roberto Mancini diciamo che non è un calciatore conosciutissimo ai più, l'abbiamo visto con la maglia della sua nazionale a San Siro contro per l'appunto l'Italia è stato uno dei migliori in campo però finora ha giocato solo in Croazia ecco, che tipo di calciatore è? Può far fare quell'ulteriore salto di qualità la mediana nero-azzurra? Beh, Marcelo Brozovic è un giocatore molto interessante molto duttile Ausilio lo apprezza e lo aveva già opzionato per giugno in un'operazione che doveva essere magari rimandata in estate poi si è deciso di affrettare tutto a gennaio perché l'Inter in questo momento ha bisogno di un mediano che sappia giocare anche con i piedi Brozovic è un giocatore che ha fisico ha i tempi di gioco anche maggiori rispetto a Medel può giocare in quella posizione di campo nel 4-2-3-1 e quindi credo che Brozovic sia un acquisto davvero molto importante lo certifica il fatto che l'Arsenal, il Napoli e soprattutto il Milan abbiano cercato di soffiarlo ai nerazzurri che però hanno fatto un'operazione mi sento di dire condotta alla grande sotto traccia poi alla fine vincendo questa corsa a 3-4 squadre portandolo a Milano un giocatore che Kovacic consiglia caldamente e sono stati compagni della Dinamo Zagabria e io mi fiderei del croato anche perché non è uno scarso mettiamola così lo stesso Kovacic facciamo un po' di chiarezza profitto appunto della tua presenza per parlare del calcio mercato dell'Inter ma in termini proprio economici questo perché molti tifosi dell'Inter ma anche dei trattori, dei nerazzurri si chiedono il perché da un giorno all'altro l'Inter abbia potuto acquistare Podolski, Shakiri piuttosto che lo stesso Brozovic visto che tu ti occupi quotidianamente con i tuoi colleghi di fcinternews.it delle questioni riguardanti il calcio mercato e non solo puoi spiegare proprio nello specifico i pagamenti come avverranno quando saranno pagate alcune tranche eccetera eccetera sì, questi giocatori sono tutti giocatori che arrivano in realtà formalmente in prestito sono giocatori che magari verranno pagati e inizieranno a essere pagati soprattutto non da quest'estate ma da quella successiva io parlo di Sherdan Shakiri che inizierà a essere pagato dalla stagione 2016 allo stesso modo Brozovic arriva con un prestito di un anno e mezzo e poi inizierà a essere pagato negli 8 milioni totali che l'Inter verserà alla Dinamo Zagabria allo stesso modo Podolski è un giocatore in prestito che soltanto a giugno verrà decifrato se l'Inter vorrà davvero puntare sul tedesco o meno e a quel punto si discuterà con l'Arsenal anche la modalità di pagamento tutte queste uscite sono uscite che verranno posticipate al 2016 appunto perché Toeira ha un piano pluriennale in cui l'Inter dovrà crescere anno dopo anno anche a livello sportivo si spera che entro la stagione 2016 l'Inter possa andare in Champions League e avere quei ricavi che in questo momento mancano per portarla insomma di nuovo in una fase di crescita che insomma dovrebbe avvicinarla a quello che è stato il 2010 del triplete in cui ha toccato forse il picco storico più alto a livello di introiti di incasso a livello di bilancio ecco si può dire fondamentalmente che l'Inter ha fatto una sorta di mutuo definiamolo così per cui ora come ora per l'appunto non dovrà spendere ingenti somme di denaro è parlato della Champions League e Toeira ha dichiarato che se l'Inter non dovesse centrare la qualificazione alla Champions League non ci saranno problemi l'importante sarà arrivare in Europa questo perché il brand dell'Inter comunque funziona ed è conosciuto in tutto il mondo è vero o l'ha detto per non mettere troppa pressione a Mancini e sui calciatori per l'arrivo o meno in Champions League io credo che il presidente Eric Toeira abbia detto una mezza verità nel senso che l'Inter anche avendo investito così tanto a gennaio vuole provare quantomeno a lottare per il terzo posto se la corsa al terzo posto dovesse fallire l'Europa League sarebbe la condizione sine qua non per continuare quantomeno in un progetto di crescita perché anche l'Europa League porterà degli introiti maggiori dall'anno prossimo se ci è stata una riforma della UEFA da questo punto di vista sulle distribuzioni degli incassi da queste competizioni certo è che nel campionato attuale italiano dove praticamente è una corsa al non terzo posto tutte stanno perdendo punti qua e là Toeir ci crede Mancini pure la realtà dei risultati però parla chiaro e parla contro l'Inter in questo momento gli investimenti ci sono stati il mercato ha portato grande entusiasmo nei tifosi che vorrebbero vederlo tradotto in campo io credo che sarà un mese cruciale per vedere la crescita dell'Inter se l'Inter crescerà e riuscirà a mettere insieme una serie di risultati consecutivi e positivi potrà davvero dire la sua per il terzo posto perché lo ripeto è un campionato dove le grandi non stanno riuscendo a trovare continuità e anche la Roma adesso sta abdicando quella che è la corsa Scudetto e questo fa capire come il livellamento ci sia stato e basti davvero quel qualcosa in più che l'Inter può dare a gennaio con i nuovi acquisti per puntare al terzo posto ecco io te la butto lì tantissimi anni fa l'Inter rischiò di andare in serie B arrivò se non erro un punto sopra l'Atalanta che quell'anno per la punta retrocesse ma vinse la Coppa UEFA l'Inter non dovrebbe o anche potrebbe puntare alla vittoria quest'anno dell'Europa League perché fondamentalmente non è che ci siano squadre così tanto superiori ai nero-azzurri o sbaglio? No l'Inter potrebbe assolutamente puntare alla vittoria dell'Europa League per qualificarsi alla Champions la verità è che anche il mercato di gennaio però sta dimostrando come l'Inter voglia arrivare alla Champions tramite il campionato perché i giocatori che sono stati acquistati non potranno essere messi tutti in lista Europa League soltanto uno tra Podolski Shakiri e Brozovic sarà infatti inserito in questa lista possiamo insomma già pensare che sarà uno tra Podolski e Shakiri a giocarsi il posto invece Brozovic sarà un'arma in più per Mancini soprattutto in campionato ecco tu invece credi però alla possibilità che l'Inter possa arrivare terza ecco in questo momento io credo che soprattutto a livello di gioco l'Inter debba crescere molto debba dimostrare di diventare una squadra un po' più matura e anche i giocatori che ci sono già quelli di maggiore esperienza come Hernanes come Guarin come Ranocchia come anche Vidic che può dare qualcosa in più nella seconda parte di stagione devono crescere fare quei clic in più per dimostrare che l'Inter può davvero dire la sua perché i nuovi acquisti non bastano a gennaio è difficile inserire i giocatori e quelli che ci sono già devono davvero dare qualcosa in più io cito il profeta Hernanes perché è stato l'acquisto più importante dall'arrivo di Toira a livello economico e mi sento di dire che il brasiliano è stato davvero quello che finora ha deluso di più perfetto in 15 secondi neanche perché Susic non arriverà all'Inter? Susic non dovrebbe arrivare all'Inter perché l'Inter in questo momento non ha il milione da pagare subito all'Aidu che 4 a giugno per riscattare il giocatore che piace molto in Inghilterra QPR e Newcastle stanno parlando con Milan Rapace il suo agente credo che sia un giocatore che l'Inter aveva opzionato prima di prendere Brozovic adesso sarà molto difficile perfetto siamo arrivati in chiusura grazie mille a Luca Pessina giornalista di FCinternews.it per essere stato qui con noi grazie mille Simone buona serata buona sera a tutti l'appuntamento con qui Inter per la settimana prossima arrivederci il programma è stato offerto da fare la spesa ti pesa vorresti farla in modo più veloce e conveniente scopri dragstore.it collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia della persona della casa e degli animali e per te 5 euro di sconto con il codice offerta tv che